La sindaco stamattina ha questo crollo nel centro storico di Napoli, sono 5 feriti, 2 sono ricoverati al Cardarelli, ci dicono in condizioni abbastanza gravi. Voi state monitorando la situazione? Sì, stiamo seguendo dal primo momento quando abbiamo avuto le prime notizie, il vice sindaco si è recato anche in ospedale per accertarsi delle condizioni dei feriti, quindi stiamo monitorando tutto, sia quello che è accaduto, ma soprattutto in questo momento le condizioni dei feriti e quindi abbiamo le notizie che più o meno avete anche voi.